Cioè, quale è lo spingio da noi? No, di 600, troppa casetta. No, no, la merce in venduta. Io anche la merce buona, che è in venduta. Io ce l'ho anche. Oppure la svento. E' picchiare? Non c'è, Cristiano, che stanno muovendo i frutti. Anche perché è andata a mare, non si può mangiare più. Vedi che dov'è? Non possiamo giocarlo. Vedi che dov'è? Prima che diventa fracido. Prima che diventa fracido. Puttata cilla, come stanno facendo la minacola. Purtata cilla che stanno volendo i frutti. Prima che hai chiestato. Allora, accontate. Non è come c'è, non è. Non si può mangiare più questa roba. Tutti c'è andata a mare. Inizio, quando c'è la merce che ci rimane, gliela diamo alla dottoressa, che ci sono delle associazioni della Caritas, e gliela diamo al necci. Ora la facciamo neanche, i bus ci ringhiamo neanche. Ci ringhiamo neanche, ci facciamo un ciolo a qualche parte dopo. E si vanno a figliariti e mangiano. Prima che non si può mangiare mai i bambini. Ora la soluzione, secondo me, qual è? Qual è? Qual è? Ma mettete i vestiti giusti. Giusti. E se c'è un attivo, fuori misura non lo dovete caricare. Non lo dovete mancare. Non lo dovete mancare. Due e cinquanta. Non è accattato. Un e su due euro. Un cilentino, un cilentino, un cilentino, un cilentino, un cilentino. La prima cosa può fare anche. E allora ci hanno allazzato, e che io non ci faccio rire, ci hanno un cilentino di popolo. Ma noi ci hanno i bottigli, ci hanno i bottigli, ci hanno i bottigli, ci hanno i bottigli, ci hanno i bottigli. non ci hanno i bottigli. Non ci hanno i bottigli. Non ci hanno i bottigli. Tu mi proponi a me di non portare la merce. La stessa cosa io te lo dico a te. Non ci hanno i bottigli. Perché il popolo è composto dalle persone che dicono il popolo. Ma che cazzo facciamo i bottigli? Zucchini è cari, il broccolo è caro, i cipurri è un pochino, il pomerone è un pochino, i melanzani è un pochino. Chi spazio ci ha i bottigli? Il funocchio è un pochino. La colpa dei prezzi non è nostra. Lo volete capire o no? E fermavano tutte, fermavano tutte. Ma cosa è la colpa dei prezzi? Fermavano tutte. E se c'è fermo? Se c'è fermo i prezzi andranno a calare. E se c'è fermo? Ma il mercato di Siracusa non può risolvere il problema a livello nazionale. Gli altri siamo qua su picciotti. Gli altri ne soppiamo così uno con l'altro. Ora stamattina sai cosa succede? Ha gente, non vi vede. Tutti i supermercati hanno a finire. Tutti i supermercati faranno il boom di vendita. e niente ci fanno. Alla fine chi la prende, scusate l'espressione, voi con mezzani e niente. Non lo sappiamo. Le infamità stanno facendo la... Lino gli sta venendo. Lino gli sta venendo da patto. Faccia ora. Ma c'è un papà potere. E niente ci siamo qua. Il carro è scendendo. Non deve uscire da un pezzo di scioppa. 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 osta da un pezzo di scioppa.